per aver partecipato. Allora, buongiorno a tutte e a tutti. Vi do il benvenuto a nome delle associazioni e i comitati dei genitori dei tre istituti comprensivi di Casa Lecchio di Reno. Abbiamo voluto organizzare questo incontro perché le tematiche che affronteremo oggi sono al centro delle sfide educative attuali. Prima di passare alle presentazioni vorremmo condividere l'idea con voi che l'evento di oggi vuole essere il primo di una lunga serie che ci piacerebbe organizzare su tematiche relative alla genitorialità e all'educazione dei bambini e adolescenti. Crediamo che l'unione delle associazioni e i comitati dei genitori di Casa Lecchio possa portare beneficio a tutta la nostra comunità. Come primo incontro abbiamo voluto invitare una persona di fama nazionale che non ha bisogno di troppe presentazioni e che gran parte di voi già conoscono, il dottor Alberto Pellai. Il nostro ospite oggi ci darà modo di riflettere sulle risorse utili per accompagnare la crescita dei nostri figli sempre più immersi nel mondo digitale. Vorremmo esprimere un ringraziamento speciale ad Avis e per Corsi di Pace per averci sostenuto in questa iniziativa. Un sentito ringraziamento anche all'amministrazione comunale che ha patrocinato questo evento. Non vogliamo togliere troppo tempo al dibattito quindi diamo solo due informazioni di carattere tecnico prima di passare la parola all'assessore a Bevacqua, assessore all'infanzia e alla scuola e successivamente a Giovanni Amodio, responsabile dei servizi educativi e scolastici del comune di Casalecchio di Reno. Alla fine dell'esposizione da parte del dottor Pellai è previsto un momento di dibattito in cui potremo presentare le nostre domande. All'uscita della sala potrete trovare dei libri del dottor Pellai in vendita e se avete piacere sarà possibile avere la copia autografata. Buon ascolto sia i presenti che sono sia coloro che sono in collegamento in streaming. Passo la parola all'assessore a Bevacqua. Grazie e buongiorno a tutti. Anch'io sono molto contenta di questa iniziativa. Ringrazio l'associazione dei genitori che hanno lavorato tanto e che lavorano continuamente per tutte le tematiche e per il mondo della scuola del nostro territorio. Come diceva bene Simona io sarò brevissima perché non voglio rubare tempo al dibattito prezioso visto anche la partecipazione numerosa dei genitori e non solo. Che dire di questo momento? Qui abbiamo un massimo esperto di queste tematiche. È fondamentale questa mattinata per avere un ulteriore momento di riflessione e di spunde su quelli che sono davvero i bisogni educativi come dicevi anche tu Simona dei nostri ragazzi i cosiddetti nativi digitali. Il mondo è complesso. È complesso dove il mondo in cui viviamo è molto complesso. La comunicazione è cambiata, le relazioni sono cambiate per le tecnologie. Quindi sia per gli adulti che per i nostri bambini, 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 ragazze e ragazze. Quindi è fondamentale insieme trovare quegli strumenti per prevenire quelli che sono i rischi che si nascondono dietro ai social e che potrebbero poi creare dei danni sia nella vita dei ragazzi sia a livello di salute ma anche psicologico. Per cui è fondamentale insieme andare avanti. Noi come amministrazione poi io mi soffermo poco su quello che facciamo e sull'esperienza che abbiamo messo in campo perché lo farà il dottore Ammodio. Lavoriamo moltissimo su questi temi. Abbiamo anche il consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi che ha lavorato su queste tematiche e poi racconterà Giovanni ma la parola chiave di questo incontro come per tutti è la prevenzione. Noi dobbiamo lavorare insieme per prevenire e lo possiamo fare insieme anche ai ragazzi per trovare quello che sono i percorsi di benessere non solo a scuola ma anche in tutti gli ambienti e per la crescita che deve accompagnare loro. Importante noi come territori lavoriamo moltissimo in rete. Anche qui la rete è fondamentale. Noi lo facciamo come per esempio con gli sportelli di ascolto che voi conoscete che sono delle scuole, lo sportello presso al centro della famiglia, il pedagogico, gli sportelli territoriali, ASC, tutti quegli attori che insieme ci permetteranno ancora di più di costruire un futuro migliore, un presente e un futuro migliore per i nostri ragazzi perché davvero il mondo che ci circonda è un mondo complesso e vedo i genitori su questi temi e io come assessore sono molto davvero contenta di avervi a fianco, di averci a fianco sia voi che noi per trovare quelle soluzioni e qui c'è poi l'esperto dottor Pellai ma anche il dottor Amodio che è un pedagogista per mettere in sicurezza quella che è la vita dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze. Grazie, buongiorno a tutti e a tutti sono anch'io molto contento di essere qua, di avere accanto Alberto che ci conosciamo da tantissimi anni, abbiamo collaborato insieme in altre occasioni e quindi veramente sono contento di avere questo momento di confronto in questa sede. Non mi dilungo molto nel dire che io essendo anche responsabile del centro per le famiglie, dell'unione, dei comuni così come anche del coordinamento pedagogico attiviamo da diversi anni moltissimi interventi proprio in ambito della prevenzione. Noi abbiamo un sistema molto articolato, integrato di servizi che va dal nido alla scuola superiore, non abbiamo l'università perché ce l'abbiamo accanto che è a Bologna ma collaboriamo quotidianamente anche con l'università proprio perché ci aiuta a sviluppare sempre di più competenze e soprattutto qualità dei nostri servizi che mettiamo a vostra disposizione. Il centro per le famiglie per esempio negli ultimi anni si sta sempre più radicando sul nostro territorio, stiamo lavorando moltissimo anche per degli sportelli d'ascolto, ne abbiamo attivato proprio da poco tempo uno proprio specifico rivolto agli adolescenti che non hanno magari quelle criticità così forti che possono andare verso altri percorsi magari di tipo più sanitari, psicologici eccetera ma di ascolto che non è lo sportello scolastico ma anche di orientamento e quindi pensate che questo sportello l'avevamo pensato per un paio d'ore ma adesso abbiamo non so non sappiamo più come arginare il flusso di adolescenti che vengono a chiedere appunto di essere ascoltati quindi c'è un bisogno di ascolto sicuramente questo è un aspetto importante su cui stiamo molto sottolineando le nostre attività come coordinamento pedagogico stiamo anche lavorando moltissimo con le scuole per esempio proprio per poter entrare in quella logica che diceva prima l'assessore di un lavoro di rete proprio per poter prevenire già dalle primassime infanzia proprio disagio, situazioni che possono creare situazioni di disagio e di difficoltà sia a livello di genitori che soprattutto a livello proprio dei bambini, dell'infanzia e dei nostri ragazzi quindi è molto importante iniziare proprio c'era Ada Fonsi che è una psicologa di Firenze di un secolo fa e qualche cosa diceva che la prevenzione nasce dalla culla e io ci credo a questo ci credo moltissimo proprio perché è attraverso proprio un lavoro preventivo di supporto alle genitorialità i nidi per esempio nascono non soltanto perché le mamme devono andare a lavorare e i papà devono andare a lavorare ma nascono proprio per un supporto alla genitorialità, un servizio educativo importantissimo da sviluppare e noi all'interno di questa realtà comunale abbiamo un sistema educativo veramente articolato e molto molto qualificato. Questo per dire che occorre avere anche un pensiero, metterci un pensiero all'interno della progettazione proprio per costruire sempre di più quelle alleanze importantissime, alleanze tra i genitori, tra i servizi e questo ci crea anche l'opportunità di poter poi anche riflettere insieme perché no pensare anche a progettazioni comune come sta avvenendo con un'associazione appunto appena nate che ha portato per esempio un grande esperto di adolescenti sul nostro territorio. Io lavoro anche molto con la regione, siamo in un gruppo, dicevo prima di Alberto, stiamo lavorando da un anno a delle linee di indirizzo per mettere insieme in modo trasversale tutte le istituzioni che si occupano di adolescenti per esempio sul tema sia dell'uso dei social ma anche per quanto riguarda per esempio i ritirati sociali, quelli che in Giappone chiamano i kikimori ma è un'altra roba rispetto all'Italia almeno nel nostro occidente diciamo così. I ritirati sociali è un fenomeno molto molto complesso che è in aumento in modo esponenziale dopo il covid perché il covid ha creato una frattura enorme li ha in qualche modo gli adolescenti rilegati li ha chiusi e quindi ha creato anche molte difficoltà nel riprendere il contatto con la società, il contatto con i pari, il contatto con gli altri. Quindi è uno studio importante che la regione Emilia Romagna sta mettendo in campo, stiamo elaborando anche proprio degli indirizzi, delle linee di riconoscimento di quelli che sono i segnali di questo fenomeno insieme per esempio ad esperti neuropsichiatri, con l'ospedale Maggiore, con ASK insieme, citata prima che è la nostra azienda di servizi sociali di tutta l'Unione. Quindi come dire, importante è attivare azioni che aiutino le famiglie e i nostri ragazzi a poter entrare in una logica più di benessere e non di disagio. Quindi vi ringrazio per essere qua, ringrazio molto Alberto di essere qui con noi e le do la parola subito. Allora intanto buongiorno a tutti e a tutte, sono anch'io contento di essere con voi questa mattina, sono molto contento anche di parlare con voi di un tema su cui lavoro tanto, mi sta molto a cuore e credo che c'è tanto tanto bisogno di parlarne fra noi genitori. Io sarei qua per il lavoro che faccio, sono uno psicoterapeuta dell'età evolutiva, ma in realtà il mio mestiere si fonde profondamente con la mia vita perché io sono genitore di quattro figli, i miei figli hanno un'età compresa tra i 14 e i 22 anni e credo che negli ultimi 12-13 anni, anche nella mia vita personale e privata, la sfida più grande di genitore è stato capire come tenere insieme le vite reali dei miei figli con le loro richieste di vite virtuali. Dico le loro richieste di vite virtuali perché che un figlio voglia avere una vita virtuale oggi è il dato di fatto, che il genitore decida quanta, quando, non decide quale, ma quanta e quando, influenzerà moltissimo anche il quale vita virtuale il figlio avrà. Le cose che condivido con voi oggi vanno in tante direzioni, se siete genitori cui i figli non hanno ancora in dotazione uno smartphone ad uso personale, ecco, il mio obiettivo, e lo dichiaro onestamente, è invitarvi, alla luce delle cose che vi dirò, a pensare che quel momento può essere ritardato rispetto a quello che accade. Ho scritto un bruttissimo libro per i figli che mi mandano delle mail terrificanti perché mio papà ha letto il suo libro e adesso ha deciso che non mi regalano più lo smartphone per la crisi, ma sono i crisi mandi quelli più arrabbiati, oppure i genitori vengono a degli incontri, sentono delle cose, vanno a casa, cambia il mondo, e loro sono molto arrabbiati e credo che loro stiano facendo il loro mestiere quando sono arrabbiati con noi nel momento in cui sperimentano che noi stiamo facendo gli adulti nella loro vita. Parte, proprio come prima informazione, il dato di fatto che la vita online dei nostri figli è in moltissimi casi una vita senza adulti, dove loro spendono moltissimo tempo e dove molte delle cose che vengono proposte a loro, in cui loro si ingaggiano, non sono adeguate ai loro bisogni di crescita. Questo non perché l'online è un ambiente inadeguato, ma perché l'online è un ambiente parzialmente inadeguato e parzialmente adeguato. L'online è pieno, è ricco, YouTube è ricco di tutti i documentari del National Geographic. Se i vostri figli passano in pomeriggio a guardare i documentari del National Geographic, non abbiamo più niente da dirci. Vuol dire che li avete formati bene, usano bene le tecnologie per fare cose molto adeguate. Ecco, rispetto al lavoro che faccio io, quello che mi capita è che invece da anni le famiglie chiedono aiuto a chi fa il mio mestiere perché si accorgono che c'è molta inadeguatezza nella vita dei loro figli dopo e anche in relazione a quello che l'online porta nelle loro vite. Molte volte in incontri con i genitori dico alzino la mano i genitori che possono dire che dopo che il figlio ha avuto in mano lo smartphone la loro vita familiare è migliorata. La relazione con un figlio si è sviluppata meglio e se faccio la domanda contraria, ahimè, quanti sono i genitori che pensano che quella roba lì ha aumentato la problematicità nella relazione e nel percorso di crescita è quasi un plebiscito. Ora, sia chiaro che quando i figli crescono deve aumentare la problematicità nella relazione con i genitori, cioè cambiano loro e cambiamo anche noi. Dobbiamo adattarci, adeguarci a tutta una serie di nuove richieste che sono sacrosante. Però quello che accade nel momento in cui un figlio gestisce la vita reale parallelamente alla vita online è che spesso ha un impatto fortissimo sui bisogni di crescita, sul successo evolutivo. Il quesito che di solito i genitori fanno parte sempre da una cosa... Quando un genitore chiede aiuto, per esempio, su questo tema, è perché il figlio non sta andando bene a scuola. Spesso, quindi, mio figlio non va bene a scuola e quando si analizza poi tutta una serie di variabili ci si accorge che la vita online ha un ruolo molto significativo. Quindi si correla un po' la fatica scolastica o il disagio scolastico con molto di quello che accade nella gestione delle tecnologie ad uso personale. Partiamo da un dato di fatto che molto di quello che diciamo oggi non ha a che fare con le tecnologie ma ha a che fare con le tecnologie ad uso personale. Cioè, tenere un computer connesso in un luogo centrale della casa a disposizione delle navigazioni dei figli prevedendo una negoziazione, una supervisione con l'adulto, può essere una grande risorsa. Non lo deve essere necessariamente, ma può essere una grande risorsa. Trasferire quello che accade in un computer connesso in un luogo centrale della casa dentro a uno strumento sempre connesso che io mi porto addosso e che mi segue ovunque è invece un fattore che interagisce e interferisce con quello che accade ai nostri figli e figlie nel loro percorso di crescita e che spesso fa fare due cose. La prima è che fa fare cose che non sono adeguate, non sono fase specifiche per i loro bisogni di crescita e lei le fa fare non in modo estemporaneo, ma in modo massiccio. Un esempio concreto. Esplorare il territorio della pornografia è una cosa che tutti i maschi hanno fatto nel loro percorso di crescita 50 anni fa, come accade ora. Ma quello che accadeva 40 anni fa o 30 anni fa erano esplorazioni estemporanee, spesso su materiale cartaceo che veniva guardato e poi, non credo che il quindicenne avesse la pila di giornali pornografici di fianco al comodino in camera sua e dicesse alla sua mamma lasciami in pace quando io faccio questa cosa. Quindi c'era una sorta di cornice che era dentro alla comunità educante che rendeva una cosa trasgressiva e quindi fuori dalla norma, perché questa cosa era percepita in modo chiaro dagli adulti e dagli stessi ragazzi che usufruivano di questa esperienza. Quello che accade ai nostri figli con uno scrumento ad uso personale è che quella che era un'esperienza estemporanea, un'esperienza spesso quotidiana, molto più precoce, molto più intensa rispetto al passato, le ricerche ci dicono riguarda il 50 o l'80% dei maschi alla scuola secondaria di primo grado, spesso accompagnata dal deserto educativo degli adulti di riferimento, quindi il paradosso diventa che chi deve fare educazione su un territorio molto importante per la vita è in silenzio e chi non la dovrebbe fare, la pornografia, non è uno scrumento educativo. In realtà è molto presente, molto impattante e pur non essendo uno scrumento educativo, un territorio educativo diventa l'unica fonte di educazione. Quello che ne deriva sarà tutta una serie di attitudini, modi di pensare alla sessualità o coinvolgersi nella sessualità che se non sono fase specifici diventano molto problematici per i nostri figli. Quindi alla fine che cosa succede a uno che fa il mio mestiere? Che arriva un genitore chiedendo aiuto, una frase che cito spesso, sarebbe proprio il dottore mi aiuti, dice questa mamma in lacrime perché lei non sa che si ti va a vedere tutti i pomeriggi il mio patatone. La frase è chiara? Abbiamo in termini di fase specificità la percezione dell'adulto e di avere in casa un patatone. In termini di vite online abbiamo uno che ha già fatto tutti i purè che si potevano fare col patatone che era. Quindi, ora, una frase del genere ci dice che noi abbiamo perso la posizione dell'adulto dentro alla vita perché se siamo gli adulti nella vita di un patatone e questo è dentro al territorio della pornografia, una cosa che mi colpiva tanto è che questa madre, oltre che essere profondamente disorientata sul suo essere madre del patatone, cioè chi è mio figlio, la domanda diventa chi è mio figlio, è il patatone o è quella roba lì? Perché dico quella roba lì? Perché lei rimane anche profondamente traumatizzata dal genere di immagini che vede il figlio, ma non come madre, come donna. E si dice, io non avrei mai immaginato che c'era quella roba lì a disposizione, con tre clic, mentre tu sei nel luogo più sicuro della tua vita e della tua casa. Ora, questa cosa significa che improvvisamente lei si accorge che uno scrumento dato per comunicare, dato per fare i compiti, dato per tutta una serie di funzioni che nella mente dell'adulto sono fase specifiche e adeguate, in realtà portano in un territorio che l'adulto non pensava neanche. Per lui, per lei era imprevedibile quella cosa, non aveva minimamente previsto che questa era la cosa che sarebbe potuta accadere. Quindi, dentro a questo genere di narrazione, cosa scopriamo noi genitori? Che in effetti questo scrumento genera una situazione che spesso per il genitore è ingovernabile, uno, perché neanche la prevista, e due, perché spesso lì dentro, in quel territorio, il mondo educativo non c'è. Se un figlio, come spesso i figli chiedono, per esempio, mette la password e ti dice non invadere la mia privacy, quello che fa la gran parte di noi genitori è, ok, non invado la sua privacy. Trattando la privacy di un dodicenne alla pari della privacy di un ventenne e identificando la privacy nella vita virtuale al pari della privacy nella vita reale. Ora, io a mio figlio di dodici anni gli dico, ma io la tua privacy la rispetto al centro. Quando ti chiudi in bagno a chiave, mica vengo lì a buttare giù la porta o a disturbarti. Riconosco che a dodici anni hai bisogno di una privacy in bagno diversa da quella che avevi bisogno a otto anni. Quindi, guai a invadere quella privacy. Mia figlia Alice a dodici anni mette sulla porta della sua stanza la foto del teschio, chi entra muore. Ho chiaro che mi sta mandando un messaggio che quello non è più un territorio entra e esci come vuoi papà, ma se non voglio morire dovrò bussare e chiedere permesso. Quindi vuol dire che dentro a quella stanza adesso ci sono dei bisogni di privatezza che un anno prima non c'erano e vanno rispettati. Ma dentro alla vita virtuale non entrare, se entri papà nella mia vita virtuale e muori, no, questo no. Per il semplice fatto che non ci sono confini dentro quella vita. Quindi devo immaginare che per un po' io condivido la tua esperienza. Io faccio il genitore nella tua vita online e ti sono a fianco perché è molto probabilmente, capitano a tanti di noi, i gruppi WhatsApp di noi genitori a volte sono delle zone dove gestiamo malissimo tutto. Quindi se capita a un adulto scrutturato, ultracompetente nei suoi funzionamenti mentali, è chiaro che capita allora anche a un undicenne, a un dodicenne, che tutte quelle funzioni cognitive complesse non le ha ancora. Io ci tengo un po' quindi a dire che la riflessione prima da fare è proprio sulla portabilità dello scrumento, perché uno scrumento portatile diventa parte, pezzo del corpo e nel momento in cui diventa pezzo del corpo impatta tutte le cose che si possono fare nella vita reale. Se noi diciamo un'immagine, una frase frequente, no, perché se non ha lo smartphone poi non socializza bene. Quindi gli diamo lo smartphone, così socializza bene, andiamo al parco, sono seduti in cinque sulla panchina a socializzare con il loro smartphone. Allora, quello che stiamo sentendo è che se il parco è una zona di socializzazione e io voglio che socializzi bene, anche se è possessore di uno smartphone, quello dovrebbe essere l'ultimo luogo in cui va con lo smartphone, anche se a me genitore piacerebbe tantissimo che lui ce l'avesse in mano, perché lo posso chiamare in ogni momento e sapere se è vivo, sapere se sta tornando a casa. Quando noi facciamo queste operazioni però stiamo già smantellando i prerequisiti della crescita, perché un figlio che è autorizzato ad andare al parco a socializzare con i suoi amici, deve fare con l'adulto il patto sull'orario di rientro e nel momento in cui è fuori, l'adulto deve sostenere l'ansia di non sapere che cosa sta accadendo a questo figlio, quindi cominciare a separare i territori immaginando che un figlio, da una parte, sia in grado per le esperienze che chiede di condividere, di gestire la propria autoprotezione in funzione dell'allenamento che noi gli abbiamo fornito. E in secondo luogo immaginando che i nostri figli quando escono di casa non hanno come primo obiettivo quello di finire sotto un camion, come più o meno abbiamo fatto anche noi alla loro età. Quindi c'è un tema molto forte che è quello anche di cosa noi ci aspettiamo che accada nel momento in cui un figlio emana uno smartphone. E spesso quello che noi ci aspettiamo che accada è che aumenta il livello di protezione con cui un figlio si muove nella vita. Il dato di fatto è che oggettivamente questo è uno strumento che abbassa il livello di protezione, anche in termini di sicurezza stradale, perché se io vado in giro guardando dentro allo smartphone invece che guardando lungo la strada, la quantità, e questo ce l'ha insegnato molto bene il videogioco Pokémon Go, che è quel videogioco dove bisognava andare in giro a catturare i Pokémon che erano in giro nel territorio e si correva da tutte le parti e ci sono stati un bel po' di accessi. O se io, addirittura nello spazio di casa, gioco con gli occhialoni del metaverso, casco dalle scale che sono lì da dieci anni, tutto il tempo della mia... ma non mi ricordo che ci sono le scale perché sono immerso nella realtà del metaverso. Metterei un ulteriore livello di riflessione su quello che chiamiamo protezione. Se io guardo la mia esperienza, non posso dire che in questi anni ho mai dovuto aiutare una famiglia il cui figlio si era fatto male con la bicicletta, producendo danni emotivi, mentre a centinaia le famiglie i cui figli si sono fatti male con lo smartphone, chiedendo poi supporto e aiuto per tutto quello che era accaduto. Quindi io non faccio l'ortopedico, è vero, quindi probabilmente quelli che si fanno male con le biciclette vanno dall'ortopedico e quindi l'ortopedico farà conferenze ai genitori dicendo fate attenzione a dargli in mano le biciclette, però nel territorio in cui vivo io, se vado in giro tra le 3 e le 5 del pomeriggio, che dovrebbe essere l'ora, il tempo della bicicletta, del preadolescente, io con le bici non ne vedo in giro neanche uno, spesso li vedo trasportati in auto da adulti taxisti mentre loro guardano sulla macchina il video dello schermo. Ora, non ho idea se vi ho dato un po' di immagini che vi ritornano dentro la vostra esperienza, ritornano tantissimo nella mia esperienza di genitore, nella mia esperienza clinica e la domanda è perché noi genitori vedendo tutto questo in realtà lasciamo che sia fondamentalmente dentro al fatto che i nostri bambini ormai a 8 anni ci dicono che se non avranno lo smartphone come regalo della prima comunione, non so, moriranno di dolore, non ce la faranno a sopravvivere, perché tutti gli altri lo hanno, non sarò mica io l'unico che non ce l'ha. Ora, credo anche che una cosa importante, oggi ci sono io e avete già capito da che parte tira la conversazione, se tra un mese arriva un altro collega che fa più o meno il mio stesso lavoro, voi potreste essere esposti a una narrazione esattamente opposta a quella che vi propongo io, cioè tutta una serie di suggestioni per cui effettivamente un genitore rimane confuso, no? A capire, ma glielo devo dare, non glielo devo dare, è un bene, è un male. Ora, adesso io provo a dirvi alcune proprio retoriche della narrativa intorno al digitale che mi colpiscono tanto come professionista e che non condivido, chiaramente quella, mi piacerebbe dire che ho in mano un protocollo scientifico assoluto che mi fa dire che io vi do le certezze che dovete portarvi a casa, mi piacerebbe dire, io ho molte certezze legate a tante ricerche scientifiche e le neuroscienze, se mettete le ricerche che le neuroscienze hanno fatto intorno a questo tema, su un piatto mettete le ricerche che raccontano quanto vantaggioso, quanto protettivo, quanto plus mette nella vita dei nostri figli e dall'altra parte mettete le ricerche che raccontano quanto problematico e quanto potenzialmente rischioso è la vita online in età precoce, il piatto della bilancia da questa parte è pesantissimo, quindi io mi sento di dire, non è che stiamo dando, io non sto dando delle opinioni, io sto usando i miei scrumenti di lavoro per darvi una lettura del fenomeno, che ahimè però non è univoca, quindi potrete sentire molte altre letture, chiaramente ogni genitore si orienta poi secondo il proprio sentire. Allora, una retorica grandissima che sento è questa, siccome i nostri figli saranno nelle tecnologie, nel mondo online tutta la vita, è meglio dargliela in mano prima e insegnargli ad usare questa roba prima, molto presto, perché così abbiamo più tempo per allenarli. Ora, se questa frase fosse corretta, voi oggi dovreste andare a casa e dare in mano ai vostri figli le chiavi della vostra automobile, perché viaggeranno in auto tutta la vita, dovranno usare le risorse del trasporto automobilistico tutta la vita e è meglio che si allenino prima. Chiaramente gli daremo un go-kart ultra elettrico con cui andare in giro e in realtà noi non diamo in mano un go-kart ai bambini in questo ambito, gli diamo l'iPhone di ultima generazione, se è il grande regalone della cosa. Ora, con l'automobile vi siete messi a sorridere e un motivo c'è. Voi sapete che per legge l'automobile si deve usare dall'età di 18 anni e non è una pura convenzione, non è semplicemente perché per tradizione glielo diamo in mano a 18 anni, ma guidare un'automobile comporta dover incrociare una serie di abilità e competenze che non sono monodimensionali, cioè c'è bisogno di un lavoro integrato dentro al nostro cervello che chiede abilità cognitive molto complesse. Se io penso a mio figlio Pietro, a 12 anni, era alto 1,80 m, 10 cm più di me. Stava tranquillamente sulla mia auto molto meglio di me in termini proprio di tenere il volante, cambiare la marcia, schiacciare sui pedali. E quindi quello scrumento era a sua misura dal punto di vista fisico. Molto facilmente gli potevo insegnare tutte le funzioni di gestione della guida dell'auto. Ma quello che accade quando ti muovi con l'automobile è che devi avere un livello di attenzione sull'ambiente intorno a te, devi avere una velocità di previsione di qual è la velocità di quello che sta arrivando per capire se puoi sorpassare o no. Devi avere una visione d'insieme che è proprio una cosa che si chiama funzione integrata. E aspettare 18 anni è ideale perché il cervello a 18 anni riesce a sostenere funzioni complesse integrate. Mentre a 12 anni non ce la fa, ecco perché è molto meglio dargli una bicicletta e non dargli per esempio ancora in mano un motorino nel suo muoversi nella città. Qua dentro quindi è come se ci dicessero che siccome lo userai tutta la vita comincia presto, viene annullata dentro una frase tutta la dimensione della fase specificità che è uno dei principi chiave intorno ai quali si sviluppa il progetto educativo dei nostri figli. Cioè se noi vogliamo insegnargli la competenza di lettura e ad amare i libri, non gli diamo l'edizione originale dei Promessi Sposi a 4 anni e la serie di Peppa Pig a 15, ma in ogni momento forniamo la cosa che serve e che è adeguata alle competenze che il soggetto riesce a mettere in gioco. Ora, se tutti i genitori stanno combattendo quando il figlio è in mano uno smartphone con i figli, perché ci sono un sacco di limiti, confini, regole, supervisioni, cose che vanno monitorate, che costantemente ci ingaggiano a stare in un luogo di monitoraggio e controllo, vuol dire che dentro quel territorio c'è troppa roba che non è fase specifica per i loro bisogni. Un esempio concreto, sempre per usare la retorica del dibattito intorno a questi temi, ma proprio preso da alcuni libri, è che la community dei videogiocatori è il loro cortile. Quindi noi genitori che non abbiamo, oppure noi esperti, che demonizziamo i videogiochi, non demonizzo proprio niente, che videogiochino tanto quanto gli pare, se non hanno la percezione. Io dico che i videogiochi spesso generano attitudini alla dipendenza da videogioco, perché prendono una cosa bellissima che è come il giocare, prendono un'altra cosa bellissima che è il giocare con gli altri, ecco la community, e la trasferiscono in un ambiente in cui queste due cose bellissime vengono fatte con delle modalità che sono totalmente inadeguate rispetto ai bisogni per cui un undicenne deve giocare tanto e alle funzioni che vengono richieste per sostenere quell'attività di videogioco. E provo a darvi gli esempi. Se noi diciamo che la community dei videogiocatori è l'equivalente del cortile dei miei tempi, io mi domando perché. Quando io scendevo a giocare a nascondino in cortile, i miei genitori non mi hanno mai dovuto dire non più di un'ora a nascondino. Poi bisogna smettere. Il che vuol dire che o non si sono mai accorti che nascondino produceva un impatto forte in senso negativo sulla mia vita, o nascondino in cortile con gli altri era giocare e non c'era nessun genere di preoccupazione educativa da mettere intorno a nascondino. Se non c'era nessuna preoccupazione educativa vuol dire che nascondino non è l'equivalente di Fortnite. Se io sento che Fortnite devo mettere un sacco di limiti perché non si spegnerebbe mai e mentre lo gioca bestemmia come se non ci fosse un domani. Secondo aspetto. Non mi è mai capitato di ricevere una telefonata da un genitore ultra preoccupato che mi dice dottore ci aiuti perché abbiamo scoperto che il nostro figlio alle tre di notte si sveglia per andare a giocare a nascondino in cortile. Non resiste. Mentre accade che i genitori chiedano aiuto perché scoprono che di notte i figli, invece che dormire, si connettono per giocare con il loro videogioco. Allora noi stiamo usando una parola bellissima come giocare, una parola bellissima come giocare con gli altri e scopriamo che viene trasferita in qualcosa che usando due cose molto buone fa fare delle cose che non sono buone per niente. Perdere ore di sonno durante la notte perché non riesco a non giocare vuol dire che sotto c'è una roba che ahimè purtroppo si chiama attivazione dei sistemi dopaminergici che correla in termini di neurobiochimica del funzionamento mentale purtroppo col concetto di dipendenza. E quindi vuol dire che nel momento in cui uno sta videogiocando in effetti il suo cervello deve fare parecchia fatica a tenere sotto controllo una cosa molto divertente, molto socializzante che però tende a diventare l'unica preoccupazione per cui vale la pena. stare al mondo, un genitore finito il primo lunghissimo lockdown racconta di aver organizzato un bellissimo fine settimana fuori nella natura con la propria famiglia erano cento giorni che stavamo tutti chiusi in casa e tutti entusiasti di questa roba qua tranne il figlio dodicenne che sale sulla macchina al sabato mattina già con un muso lungo così perché andiamo, dove andiamo, a che ora torniamo a che ora torniamo, a che ora torniamo, a che ora torniamo è la roba più chiesta il papà dice ma noi stiamo via anche domani, altro che torniamo si è rimasto in casa cento giorni finalmente possiamo uscire e a un certo punto il figlio viene fuori e dice beh ma io non ho ancora giocato col videogioco oggi perché lui aveva diritto un'ora di videogioco allora dovremmo domandarci è che diventa ossessivo il fatto che il genitore ha messo il limite se non gli avesse messo il limite tutto, quindi è stato un errore educativo del genitore o anche mettendo un limite quella roba lì diventa un pensiero fisso così forte non in tutti è però in soggetti che hanno una fragilità rispetto ad alcune variabili che tu non riesci neanche più a sentire che sei nel paradiso perché l'unico paradiso che ti interessa è quello che trovi dentro il tuo videogioco ora il genitore in questione ha fatto un'urlata terribile non va affatta ecco l'altro aspetto è che il genitore deve con pazienza guardare il proprio figlio e dire ragazzo mio, te lo dimentichi oggi, te lo dimentichi domani e forse te lo dimentichi per sé per i prossimi sette giorni se sei conciato così che non riesci neanche a vedere che una roba che hai fatto per cento giorni sempre perché non potevi fare altro non ti permette più di stare in contatto e quando il genitore dirà questa roba al proprio figlio succederà che c'è un escalation di rabbia se è il peggiore papà del mondo è difficile che un figlio ti faccia l'applauso quando gli metti una roba del genere poi dentro al suo cervello la rabbia scende il cervello si adegua all'aspettativa chiara che gli abbiamo dato e guarda caso piano piano riattiva tutta una serie di altri e dice se mi tocca morire qua nel weekend nella natura il cervello di solito poi decide di non morire ma di godersela un po' se non l'abbiamo portato alla catena di montaggio che è un lavoro di riabilitazione al bello al naturale al relazionale che non è già lì pronto cioè quando gli spegniamo la roba loro via partono loro avranno parecchie reazioni spesso avranno cose molto simili a una crisi di astinenza se il meccanismo che è stato attivato è quello dei circuiti dopaminergici ma quello è proprio un passaggio necessario per riattivare tutto quello che l'iperattivazione e il bisogno di quella cosa lì aveva messo dentro quindi ci tengo a dire che dobbiamo avere cioè purtroppo il nostro cervello non è un cervello che è cablato è costruito nell'esperienza di decine di migliaia di anni e che trova il suo equilibrio in un funzionamento che viene attivato da cose che gli fanno bene intendendo le cose che gli fanno bene quello che l'evoluzione ha generato come un bene che genera equilibrio tutta sta roba qua non c'era fino a 30 anni fa quindi il cervello adesso farà tantissimi tentativi per adeguarsi ad adattarsi alle nuove richieste alle nuove esperienze che gli vengono proposte ma mentre si adegua a quella roba lì lui mantiene dei funzionamenti che non sono fatti per quella cosa lì quindi prendiamo prendiamo un'altra retorica molto frequente che è questa sono solo scrumenti quindi basta imparare ad usarli bene e poi il tutto il resto viene da sé quindi con questa frase per esempio più volte anche a me scusate guardo anche a me è stato detto comodo te pellai dire non glieli diamo e farli soffrire perché tutti gli altri ce l'hanno così li tieni fuori dai pericoli che percepisci tu perché non li vuoi educare a gestire la realtà del tempo allora prima di tutto comodo un corno è scomodissimo si fa un sacco di fatica sia sul fronte della relazione con i figli sia nella consapevolezza che se tu metti una roba che attualmente adesso è considerata un vuoto e sei un buon educatore quel vuoto va riempito quindi bisogna fare un extra lavoro di tenere riempito quello che ti dicono essere il vuoto che tu gli crei e lo devi fare con le cose che danno senso a mettere il pieno e quindi aumenteremo gli ingaggi relazionali gli inviti degli amici i contatti con le famiglie che di per sé è impegnativo per chi ha già vita impegnativa è molto impegnativo però è anche quello che effettivamente ci fa stare bene nella vita quindi io di comodo non trovo niente lo trovo impegnativo fare una scelta che io non la faccio in sottrazione è vero che con quattro figli per esempio alla fine credo di aver fatto meno fatica a prendere la scelta impegnativa delle relazioni nella vita reale piuttosto che la via della socializzazione all'interno delle delle community secondo secondo aspetto quando mi dicono è uno strumento la retorica è uno strumento la cosa che penso io è questa che io avrei ne ho anche nella mia mail adesso ho messo via una mail non so se ve la leggerò ma io ho tantissime storie di famiglie che hanno fatto tutte le educazioni possibili immaginabili tutti i contratti educativi possibili immaginabili dato tutte le regole possibili immaginabili fatto tutti i tiri alla fune possibili immaginabili per educare questo lo strumento e il buon uso dello strumento e spesso sono sfiniti cioè non ne possiamo più di tutta sta roba e in realtà dico se siete sfiniti è perché state facendo la roba giusta cioè state continuando a fare un lavoro educativo importantissimo per cui si tiene sotto controllo la potenza non dello strumento ma dell'ambiente online che è una potenza così intensa che i nostri ragazzi i nostri figli da soli non la sanno gestire quindi nel momento in cui è come dire nel momento in cui decidete di farli andare col go kart in autostrada dovrete per tutto il tempo stare voi con la vostra automobilina di fianco al loro go kart per proteggerli per esempio dal vuoto d'aria creato dal passaggio del tir che se li mangia vivi se rimangono loro da soli in autostrada c'è tantissimo lavoro di accompagnamento da fare il secondo aspetto è che uno scrumento è la lavatrice io ho 5 kg di panni sporchi li butto nella lavatrice scelgo il giusto programma di lavaggio scelgo il giusto detersivo faccio partire la lavatrice la lavatrice dopo un'ora mi dà panni puliti ha fatto il suo lavoro scrumentale in quell'ora lì io non mi siedo davanti all'oblò della lavatrice a vederlo girare se vado all'ipermercato e ho dimenticato la lavatrice a casa non corro a casa col carrello perché non posso andare senza la lavatrice ora vuol dire che la lavatrice fa le cose che deve fare e mentre lei le fa io continuo a fare le cose che devo fare quello è uno strumento che viene usato per l'uso finalizzato ora dentro uno smartphone non c'è uno strumento ce n'è un milione l'abbiamo visto con nostra figlia Caterina che aveva assolutamente bisogno dello smartphone mentre studiava perché c'è dentro la calcolatrice dopo due giorni abbiamo guardato nel tempo dello studio quanto era stata usata la calcolatrice e quanto era stato usato tutto il resto abbiamo comprato una bella calcolatrice perché abbiamo detto se quella era la funzione esattamente come l'altro che aveva bisogno dello smartphone in camera di notte perché c'è dentro la sveglia abbiamo comprato una bellissima sveglia e abbiamo fatto in modo che la funzione sveglia non aprisse un'infinità di altre porte che con la sveglia non hanno niente a che fare se la cosa per cui sei in camera di notte nel tuo letto è dormire quindi non mettiamo gli smartphone in camera stanno in altri ambienti quindi se non vuoi dormire almeno abbi la consapevolezza tu e noi che non stai dormendo se sei in camera nel tuo letto per dormire di notte e hai bisogno di una sveglia compriamo quella di ultima generazione che ti fa anche sentire la tua canzone preferita al risveglio ora che cosa è lo smartphone e lo dice bene il professor Galimberti non è uno scrumento è un ambiente e quindi il lavoro intorno a uno scrumento è imparare ad usarlo il lavoro dentro un ambiente è imparare a gestirlo che è una roba completamente diversa l'ambiente è un un universo quell'ambiente è un universo fatto da un milione di porte no un miliardo di porte no dieci mili cioè potete veramente fare tutto e tra l'altro il tema grandissimo per chi sta crescendo è che noi abbiamo una percezione chiarissima dei nostri bisogni evolutivi di quelli che si chiamano compiti evolutivi guarda caso si chiamano corpo si chiamano sessualità si chiamano relazionalità si chiamano individuazione cioè capire chi sono che valore ho e tutte queste cose apparentemente le puoi fare tutte anche virtualmente puoi esporre il tuo corpo modificarlo averlo ideale come piace a te attraverso i filtri e vedere che cosa genera in termini di popolarità sguardo dell'altro entrando guarda caso ci dicono la ricerca in un tunnel che per esempio per le ragazze ha aumentato di almeno il 40% il 40% delle nostre figlie che hanno un profilo social prima dei 16 anni sviluppano un'ansia potentissima rispetto alla loro immagine corporea che non avrebbero così intensa e così potente se stessero fuori dei social vuol dire che lì dentro c'è davvero una sorta di tribunale che giudica e non per niente ogni foto che fai perché diventa ansiogena perché non è una vetrina e basta è una vetrina interattiva pubblichi la foto e dopo 10 secondi cominci a vedere se ti hanno dato i like se non ti hanno dato i like comincia a chiederti come mai la foto di oggi non mi ha dato i like e lavorando per esempio con chi ha meno di 15 anni questa roba qua si vede benissimo perché se sotto una foto sono arrivati 100 commenti sei meravigliosa sei bellissima sei stupenda e un commento uno che dice sei bruttissima tutta la giornata sarà passata a pensare all'1% dei commenti il cervello non integra ancora bene tutti i dati e quel commento diventa il tutto ma succede anche a noi io che ho tantissime persone che scrivono a volte ce ne sono alcuni che mi scrivono cose terribili ci ho messo un po' di tempo a capire che quello è il luogo dove tutti possono dire mi scrivi cose tremende non mi hai mai visto e devo proprio imparare a dire poverino lui non poverino io ecco questo passaggio non è così facile quando hai 12 13 anni e ogni frase serve per dire a te stesso chi sei ci sono un bel po' anche proprio di passaggi che non stanno avvenendo più e su cui dovrai cioè tante cose che lo psicologo magari vede no? e che su cui riflette fino a 20 anni fa tantissimi adolescenti tenevano il diario privato narravano se stessi a se stessi la nuda e cruda verità le robe che facevano male il dolore che bisognava maneggiare veniva trasformato in parola messo lì e lo potevo guardare da fuori ora questa cosa non la fa più nessuno e ci si taglia per guardare il proprio dolore siccome non ho le parole per dirlo spesso faccio quella roba lì ma l'altra operazione che si congiunge con la riflessione sull'ansia legata al corpo è questa che io in realtà quel diario lì non lo tengo più perché adesso la pulsione fortissima è tenere il diario nei social cioè io mi racconto attraverso il mio profilo che è quasi sempre un profilo per immagini con pochissime parole e il grande imbroglio è che quando io mi racconto nel mio diario social faccio l'operazione esattamente contraria a quella della mentre io lì raccontavo la verità di me stesso a me stesso la mia vera verità io nell'altro diario devo raccontare la verità che gli altri vogliono che venga raccontata cioè faccio l'operazione più invalidante rispetto al mio vero sentire quindi ritornando alla parola è uno scrumento basta imparare ad usarlo bene e poi tutto fila ecco io nel lavoro che faccio e anche per il genitore che sono devo dire che quando in casa sono entrati i videogiochi se li avessi considerati un semplice scrumento avrei perso il controllo per esempio di mio figlio Pietro io ho considerato un ambiente molto attraente che guarda caso se lui invitava un suo amico a giocare al pomeriggio quello sarebbe stata l'unica cosa che loro avrebbero fatto per tutto il pomeriggio in casa nostra c'eravamo dati da fare a prendere una casa col cortile dove mettere la roba del basket la rete del giocapallone uno spazio all'aperto per poter giocare appunto e io mi dico ma è possibile che abbiamo attrezzato tutta quella roba lì che la Montessori ci diceva è quello che ti serve per diventare grande e improvvisamente arriva il signor Nintendo e decide lui che la Montessori non vale più niente è un conflitto non da poco dobbiamo decidere se noi stiamo con la visione dei bambini dei figli che aveva la Montessori o se stiamo con quella che ha il signor Nintendo ora se andate a vedere i produttori dello scrumento dentro a un documentario che si intitola The Social Dilemma dura un'ora bellissimo da vedere anche con i propri figli voi avrete un'ora di narrazione intorno al tema ma cos'è realmente l'online dentro alle nostre vite e le interviste vengono fatte a esperti della mente con un taglio neuroscientifico e poi esperti della Silicon Valley grandi manager dei Google iTunes TikTok no TikTok non c'è comunque c'è anche TikTok benissimo ora quello che scoprirete è che loro vi dicono intanto che hanno ben chiaro che le tecnologie non sono degli scrumenti e che tutto il loro lavoro è rendere lo scrumento in realtà l'occasione per fare entrare le persone dentro ambienti generando campi magnetici da cui non vuoi uscire più quindi la logica dell'algoritmo in realtà è una logica basata sul fatto che qualsiasi click noi facciamo nella nostra vita online viene registrato e unito a tutti gli altri click che vengono connessi a quanto tempo noi stiamo davanti a un'immagine rispetto a un'altra che a sua volta quell'immagine è stata profilata con tutta una serie di caratteristiche per cui ognuno di noi riceve una sorta di profilazione ultra precisa e nel momento in cui io entro dentro alla mia vita online la mia vita online mi propone un palinsesto che è perfettamente rispondente alla mia vulnerabilità dopaminergica cioè dove trovo io la gratificazione istantanea nel momento in cui cos'è che mi uncina di più quando sono nella vita online attenzione questo vuol dire che io vengo profilato non nei miei bisogni cognitivi alti ma nei miei bisogni più pulsionali emotivi bassi con l'obiettivo il valore che ho io dentro a quel sistema è quanti click e quanti secondi della mia navigazione regalo ai vari ambienti in cui mi muovo perché quei click e quei secondi di navigazione aumentano il valore commerciale di quell'ambiente quindi la possibilità di dare un costo poi a tutti i prodotti che verranno promozionati interrogando i grandi capi della Silicon Valley a capo di tutti questi gli dicono ma voi quindi con i vostri figli che cosa fate? la risposta è unanime non avranno mai in mano una roba così prima dei 14 anni e attenzione quando fanno il contratto con le babysitter dei loro figli il contratto prevede che quando la babysitter entra in casa lo smartphone non lo può tenere in mano quindi tutta la sua famiglia allargata eccetera riceve un numero di telefono fisso e se la vuole chiamare nell'orario di servizio la chiama sul numero di telefono fisso se andate a vedere che cosa è successo alle scuole della Silicon Valley voi scoprirete che c'è stata una proliferazione di scuole Montessori e di scuole ad indirizzo steineriano mentre noi con la scuola 4.0 proprio stiamo ricevendo ora anche su quell'aspetto lì e qua poi io faccio mi avvicino un po' alle conclusioni noi abbiamo fatto il più enorme investimento possibile immaginabile nell'iscruzione puntando quasi tutto sulla digitalizzazione abbiamo investito molto di più in strumenti digitali che in outdoor education educazione all'aperta sale di psicomotricità palestre voi qua siete poi in una regione molto fortunata in questo senso ma il paradosso per esempio che sperimento io se vado a fare un incontro in alcune zone del sud Italia è che quest'anno alcune scuole che non hanno una palestra una hanno 120.000 euro da spendere in computer tablet materiale digitale che tra l'altro una volta comprato nessuno sa usare perché non c'è la formazione per usarla e quindi il tema è a fronte di questo super investimento pluridecennale che parte dall'idea che noi dobbiamo fare bene questa distinzione le tecnologie ci permettono nella posizione di adulti di fare un'infinità di cose molto meglio molto più velocemente e con molta più ricchezza ed efficacia quindi le dovremo mettere a disposizione dell'adulto perché con l'ausilio delle tecnologie tutti i passaggi burocratici ma anche avere una lim in classe permetterà di fare delle lezioni che la mia maestra Liliana quando io nel Pleistocene andavo alla scuola elementare non poteva fare quindi doveva inventarsi e ne aveva inventati di bellissimi lasciatemi dire detto questo però nel momento in cui questa cosa poi arriva nella vita dei nostri figli e non è più uno scrumento a servizio della didattica digitale integrata ma è un oggetto che servirebbe per la didattica digitale integrata ma inferisce e interferisce con tutto qual è il vantaggio che ci siamo portati a casa? noi adesso dovremmo a fronte di tutti quegli investimenti misurare dei super ultracervelli nei diciottenni dovremmo aver guadagnato degli apprendimenti pazzeschi con tutto l'investimento che abbiamo fatto per ora le ricerche ci dicono che i diciottenni attuali possiedono una comprensione di vocabolario nella lettura e utilizzano vocaboli infinitamente inferiori ai loro coetanei di 10, 20 o 30 anni fa il che vuol dire che lo scrumento della parola la comprensione della parola il linguaggio che guarda a caso è quella roba che differenzia me essere umano da tutte le altre specie viventi io facendo il medico ho un enorme vantaggio rispetto al veterinario perché il mio paziente quando viene da me me lo dice perché è lì e che cosa gli fa male il veterinario non ha quella cosa lì il linguaggio è il prerequisito che ci dice che noi siamo dotati di funzioni cognitive e produciamo pensiero pensante la correlazione tra la qualità del pensiero pensante e il numero di parole che conosciamo e che possiamo usare è direttamente proporzionale guarda caso le ricerche che verificano la quantità di parole comprese e utilizzate negli scritti dei nostri figli che ci dice che ne sanno molto meno rispetto alle generazioni passate vanno di pari passo con le analisi della complessità di pensiero presente nei testi scritti degli attuali diciottenni che è molto più povera rispetto alla complessità di pensiero dei loro coetanei di 20 o di 30 non è che sono diventati più stupidi sia chiaro ma hanno meno pensiero pensante e la riduzione del pensiero pensante è che hanno più procedure esecutive operative sanno fare con i loro joystick cose che io non imparerò mai più a fare perché io non ho quella competenza di per esempio coordinazione viso spaziale emotoria che hanno loro giocando al loro videogioco però il tema è che cosa ci serve davvero nella vita che cosa dà senso e significato alla nostra vita dove la nostra mente genera la percezione del nostro stare bene del sentirci in equilibrio ecco credo che questo è un po' il dilemma intorno al quale dobbiamo dobbiamo interrogarci quindi un po' prima prima poi di aprire il dibattito e di sentire credo anche tutte le contestazioni che sono la cosa che ci serve di più cioè il pensiero divergente credo che in questo momento parlare del tema di cui stiamo parlando è davvero complesso intanto perché non abbiamo in mano le verità assolute non ci sono i protocolli e se voi ci pensate ahimè noi stiamo scrivendo la consapevolezza di tutto questo proprio dentro alle vite dei nostri figli sono li chiamiamo nativi digitali ma io li chiamerei natanti digitali sono proprio in me non è più il tema è che anche chi fa una scelta diversa ritarda l'accesso allo smartphone ai 14 anni ha un figlio che comunque si muove in un mondo che è comunque iperconnesso dove l'iperconnessione comunque entra dentro alla sua vita io sempre un po' legandomi ci sono un bel po' di cose anche che alla scuola direi cioè molte delle cose che noi consideriamo vantaggiose nella prospettiva dello psicologo dell'esperto della mente non lo sono per niente se io dovessi non so guardo che cosa accade con i voti sul registro di classroom ci sono genitori iperansiosi che guardano 50 volte anche nella stessa mattina se il figlio ha preso dei voti e che voti ha preso il figlio torna a casa e non dice niente perché gli dice già tutto l'adulto è l'adulto che parla della sua vita scolastica poi sui giornali leggiamo che l'universitario che va male in università non ha il coraggio o non ha le abilità o le competenze di dire ai genitori che non ce la sta facendo e quindi tiene in piedi una vita universitaria che non c'è che non esiste fino a schiantarsi il giorno prima della laurea perché quella roba lì è incomunicabile molti docenti secondo me dentro a questo sistema hanno fatto il patto che aspettano almeno due o tre settimane a caricare i voti sul registro li dicono ai ragazzi gli dicono è materia vostra è materia di relazione dovete tenere il dialogo intorno ai vostri successi alle vostre sconfitte con la vostra famiglia se volete che la famiglia sia un porto sicuro che gode del vostro andare bene e che sa stare del vostro andare male ecco qual è il vantaggio oggettivo che abbiamo di fronte a quella roba lì nella prospettiva mia educativa psicologica il vantaggio è zero qual è il vantaggio che i nostri figli alle medie o al primo o secondo anno di superiori hanno con i registri caricati su classroom mia figlia Caterina quest'anno in prima superiore ci metteva dai 20 ai 30 minuti ogni pomeriggio dentro alle chat dei compagni a capire cosa quando quanto come perché ma io avrei preferito molto di più che il compito che è un contratto tra chi te lo dà e chi lo riceve ti viene assegnato da chi ne è il referente che te lo dice te lo detta te lo fa scrivere se non lo capisci te lo spiega e mentre fa tutte queste robe nel tuo cervello hai la memoria visiva la memoria grafomotoria la memoria uditiva lo metti dentro alla pagina del lunedì e cominci a vedere che il lunedì è pieno di robe il martedì invece non c'è niente e quindi devi programmare bene il lunedì e il martedì eccetera 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 con i compiti sul registro di classroom questa roba non arriva e noi aumentiamo all'infinito tutta quella sorta di operazioni che sono dei grandi vantaggi in un mondo dove già tutto è stato strutturato ma sono dei grandi svantaggi in un mondo in cui quelle funzioni supportano la costruzione delle reti neuronali che poi ti permettono di gestire anche dei vantaggi della tecnologia se arriva il vantaggio della tecnologia senza che tu abbia la struttura su cui appoggiarla quella funzione rimane depressa per sempre e quindi non viene attivata e sviluppata conclusione generale è chiaro che siamo in un tempo di complessità e di transizione è chiaro che noi genitori abbiamo non poche sfide da giocarci come genitori nel momento in cui abbiamo figli che hanno una vita reale o una vita virtuale è chiaro che il manuale le procedure non è ancora lì disponibile perché lo stiamo scrivendo sulla pelle dei nostri figli ecco direi però che anche è chiaro che secondo me è un genitore che sente la propria responsabilità educativa non fa una mossa di sdoganare una vita online solo perché tutti ce l'hanno solo perché tutti lo fanno perché quello è un criterio di popolarità fortemente radicato dentro una logica di mercato che nei nostri figli non vede soggetti in formazione ma vede proprio come il gatto e la volpe di Pinocchio bambini e bambine che hanno un sacco di soldi in tasca e chi gioca a Fortnite riceve gratuitamente online un gioco intorno al quale poi investe una quantità di soldi infinito il business dei videogiochi il fatturato dei videogiochi nel mondo è superiore a tutto il fatturato di tutto l'edutainment culturale cinema editoria tutti i film tutti i libri tutti i dischi tutti i concerti che avvengono al mondo fatturano tutti insieme meno di quanto fattura l'azienda dei videogiochi il che vuol dire che quello è un business che si sta mangiando le muse tutto il resto che convive ma chiaramente non è così vantaggioso nella logica di mercato rispetto a tutte le altre e se voi avete un dodicenne maschio che preferisce leggere invece che videogiocare scrivete subito un manuale su come ci siete riusciti perché ce l'abbiamo bisogno tutti grazie grazie mille per gli interessantissimi spunti penso che siano stati utilissimi se abbiamo delle domande per alzata di mano se qualcuno ha delle domande per alzata di mano vi raggiungiamo con il microfono salve mi devo stare in piedi allora sto seduto sentendola parlare mi è venuto voglia di buttarlo via il telefono che è qua in verità prendevo appunti sentendola parlare mi veniva da dire che anche noi stessi come adulti siamo un po' inadeguati rispetto a questo strumento ho come l'impressione che i processi di cui lei parlava che lo smartphone o comunque l'uso di queste tecnologie impediscono la formazione di questi processi nei bambini generano anche un'involuzione nel cervello degli adulti però non so se le neuroscienze hanno studiato questo perché mi viene da dire che come dire anche noi adulti siamo un attimo come dire rimbambiti da questi strumenti e molte delle cose che diceva valgono molto per noi volevo parlare di videogiochi essendo io un videogiocatore l'argomento è sensibile io non do videogiochi ai miei figli sono piccoli non lo ritengo utile non credo che gli darò videogiochi online perché vedo molto quello che diceva lei è un mondo non è uno strumento non è qualcosa in cui uno si intrattiene e poi smette è una cosa estremamente che ti prende e un ragazzo non ha le capacità invece il videogioco come forma aggregativa ci troviamo in tre in quattro e giochiamo insieme allo stesso videogioco condividendo anche fisicamente lo strumento la console piuttosto che il pad giochiamo anche a turno addirittura cosa che ai miei tempi si faceva oggi non più come la vede è una cosa che può avere un senso oppure anche questo genera dei problemi diciamo grazie allora intanto rispetto alla prima osservazione in effetti ci siamo dentro tutti i meccanismi raccontati in The Social Dilemma dopaminergici riguardano i nostri figli tanto quanto riguardano noi la differenza è che noi siamo entrati in questo ambiente avendo un cervello che si è costruito in analogico e quindi abbiamo tutta una serie di fattori che potremmo chiamare di immunizzazione digitale o se non altro di consapevolezza cioè riusciamo più a vedere in essi causa e effetto e quindi se noi stiamo due ore dentro all'online ci accorgiamo che erano due ore noi riusciamo a dirci porca miseria ho buttato via due ore se non era quello quello che dovevo fare mentre i nostri figli che stanno costruendo le loro reti neuronali il cervello non è scrutturato in analogico lì dentro percepiscono quelle due ore come un tempo della loro vita e vorrebbero espandere non hanno la percezione di aver perso il tempo se io gli dico ma adesso devi fare altro oppure adesso andiamo a fare un weekend nella natura tu mi stai portando via il pezzo di vita è come se desse un imprinting proprio su cosa andrai a cercarti dentro alla vita il secondo aspetto sui videogiochi giochiamoli in gruppo e quindi trasformiamoli in un'esperienza di socializzazione ero alla biblioteca Malatestiana di Cesena che ha un'enorme area ludica ai giochi e parlavo con il referente e diceva noi abbiamo tutti i giochi in scatola e poi abbiamo inserito tutta un'area di videogioco a disposizione degli utenti col temporizzatore e quindi loro arrivano tra l'altro arrivano quelli magari che non possono comprarseli che però vogliono giocarseli e lì dicono se non altro il grande vantaggio è che vengono in un posto dove socializzano va molto noi quello che abbiamo fatto con i nostri figli è stato dire arrivano i vostri amici benissimo giocare un'ora anche ai videogiochi poi però finita l'ora dovete fare altro ecco mi verrebbe da dire che se è una delle tante esperienze che vivono insieme nella socializzazione benissimo se invece si socializza solo attraverso l'esperienza del videogioco lì di nuovo ritorniamo in un territorio e spesso tra l'altro diventa che hanno solo due o tre videogiochi che fanno quando si trovano cioè e quella roba lì diventa l'oggetto delle loro conversazioni l'oggetto delle loro esplorazioni su youtube perché quando non stanno videogiocando si mettono a guardare ciccio gamer che sta facendo quel videogioco e guardano tutti tutti i video di ecco lì è come dire che c'è qualcosa che arriva e occupa completamente la mente quindi non ti fa vedere nient'altro quindi molto bene come esperienza di socializzazione non deve essere l'unica quindi è molto importante che l'adulto questa cosa la presidi aggiungerei quest'altro pezzetto che quando però noi mettiamo in piedi esperienze di socializzazione per i nostri figli del tipo la pizza di fine anno della scuola la gita sociale della squadra di basket proprio perché sono esperienze di socializzazione l'adulto con ragazzi sotto i 14 anni può davvero dire ai genitori faremo un'attività sociale e i ragazzi devono venire senza gli smartphone ci sarà un numero di telefono ufficiale che ogni genitore può chiamare in ogni momento se deve raccogliere informazioni o condividere informazioni altrimenti quello che spesso accade è che vanno alla pizza di fine anno della partita di basket in tre cominciano a giocare e o giocano tutti gli altri o si mettono a guardare quelli che stanno giocando cioè la socializzazione è fortemente poi vincolata questo secondo me vale anche molto per le feste di compleanno alcuni organizzano delle feste di compleanno meravigliose arrivano con gli smartphone c'è da fare un sacco di giochi belli ma tutti stanno facendo le stesse cose che avrebbero fatto in casa loro nella loro stanza allora è molto più protettivo dire ai genitori guardate che gli smartphone dei vostri figli all'ingresso della festa vengono tenuti in una scatola c'è un numero ufficiale che voi potete chiamare in ogni momento perché i ragazzi avranno un sacco di cose interessanti da fare che non sono magari per loro così attraenti come il loro videogioco ma man mano che le fanno si divertiranno lo stesso anche io confermo che i miei figli non erano per niente contenti che venissimo alla sua conferenza stamattina però ecco credo che trovo molto importante il discorso dell'alleanza tra noi genitori l'alleanza educativa tra noi genitori e agenzie educative perché appunto purtroppo forse le scuole le istruzioni ancora non sono pronte non hanno gli strumenti ancora per per sostenerci in questa in questa battaglia però ecco credo appunto che sia importante invece che alla scuola inizi a darci sostegno perché quando i figli torneranno a casa dicono abbiamo i compiti su whatsapp abbiamo i compiti lì abbiamo i compiti là per noi genitori diventa difficile poi dirgli no non puoi avere accesso a questi strumenti così come come stiamo cercando di fare e quindi ecco sono d'accordo su questo e chiedo appunto alla scuola di darci una mano perché credo che il tema sia urgente e ormai è sotto gli occhi di tutti quindi abbiamo bisogno abbiamo bisogno di voi per ecco affrontare questo tema insieme perché da soli è difficile ti do del tu perché ci conosciamo anche credo che sia davvero una riflessione importante che noi condivideremo con le scuole anche perché dal dibattito di stamattina da tutti gli spunti di riflessione che ho sentito dal dottor Pellai sia noi adulti che noi in qualità di genitori ho mai una figlia molto adulta che dopo che è passata la fase dell'adolescenza mi diceva mamma hai fatto bene a dire quei no quindi quello che diceva il dottore io lo sposo in pieno riempire gli spazi del tempo non passato con lo smartphone davanti a un altro diciamo un altro strumento che può essere la tv o altre cose davvero diventa difficile per noi genitori ma è importante davvero stare con loro e simulare altri interessi poi il manuale non esiste io sono d'accordo con lei non esiste il manuale dei genitori né da quando un figlio è zero fino a è difficilissimo però davvero l'impegno è trovare quelle soluzioni anche questo che sembra una soluzione così quello di lasciare lo smartphone in un cestino quando si entra ad una festa in una scatola davvero porta però sulle scuole è vero il tema degli utilizzi di Classroom o di WhatsApp o di altri strumenti ci faremo io mi farò portavoce insieme agli uffici di far presente questa segnalazione quindi che i compiti vengono assegnati con modalità diverse proprio per evitare non fa parte del mio ruolo però ci faremo portavoce ci raccoglieremo in un'ottica di collaborazione come dicevo stamattina in apertura le vostre le vostre stanze le stanze quindi lo faremo in una sede anche con i rappresentanti avete anche i rappresentanti che avete eletto dei genitori non solo come associazioni ma quelli istituzionali i presidenti dei consigli quindi anche con loro interfacciarsi qui ne vedo qualcuno per cui io mi farò portavoce di questa vostra richiesta grazie mentre ascoltavo lei io viaggiavo agli episodi successi in casa ho due adolescenti in casa 14-13 anni quindi potete un po' immaginare come sono messa la mia domanda cioè più che una domanda anche un po' di riflessioni all'epoca forse i nostri genitori comparava agli altri bimbi lei ha preso 10 tu perché no era sbagliato comunque adesso forse è arrivato il momento che loro ci dicono ma sai che l'altro ha preso un 5 quindi inizio già a pensare ah ok non ha preso un 5 per fortuna ha preso 6 7 va benissimo ormai dicono ma perché lui può giocare due ore io solo devo giocare un'ora non ho una risposta di quello la risposta mi viene io sono la mamma decido io tu puoi giocare un'ora punto e basta poi mi sento anche in colpa perché non ho discusso di questa cosa non ho ragioni per discutere suo genitore ha deciso due ore io decido un'ora vai a leggere un libro cosa devo fare adesso che non posso giocare al telefono non posso guardare la tv vai a giocare un libro ma posso posso leggere anche nel computer c'è quel libro in internet poi leggono due pagine leggono la trama poi hai finito sì di cosa parlava parlava di questo alla fine ha letto solo la trama non ha letto tutto il libro quindi la mia domanda lei è c'è la differenza veramente leggere un libro di foglia che io vado pagina per pagina o leggere il libro in computer e poi quanto è veramente utile forzare a leggere io fino a ieri non ero in quella parte ti forso perché devi leggere perché doveva amare a leggere oggi mi sento no io ti dico leggi quel libro leggo insieme anch'io leggo in una settimana forse ci metto di più perché ho altri impegni tu ci metti un po' meno poi ne discutiamo insieme però è quasi impossibile infattibile ma la domanda proprio mi ci riconosco anche come genitore se io penso uno degli attacchi frontali di nostro figlio Jacopo grandissimo lettore tra l'altro il primo genito lui era preadolescente 10-11 anni fa quindi quando ancora era tutto più moderato ma il libro l'attrattività del libro non competeva con l'attrattività del videogioco e di milioni di altre cose lui era un grande lettore alla primaria e tra le medie noi ci accorgiamo che se fosse per lui non leggeva più niente quindi si comincia a fare questo lavoro dove sosteniamo e promuoviamo una lettura e lui un giorno mi dice ma tu l'hai capito che a me leggere fa schifo al papà scrittore per giunta quindi una roba non da poco no e io lì mi fermo perché dico ma io sto violentando la sua attitudine a non essere un lettore lo sto obbligando a essere qualcosa cioè in realtà poi mi sono fermato e mi sono detto beh è chiaro che se io gli dicevo gioca tanto a FIFA lui mi diceva sei un papà meraviglioso mentre se io gli dico leggi tanto mi dice sei il papà peggiore del mondo perché perché io sto facendo come Geppetto che dice a Pinocchio vai a scuola non vai al paese dei balocchi ti sto proponendo un'attività impegnativa attenzione il libro avrebbe il grande vantaggio che nell'impegno dell'ingaggio cognitivo poi se è un libro bello ti prende talmente tanto che non vuoi cioè entra dentro a tutta la parte emotiva però è come salire in cima a una montagna non con la seggiovia ma facendo tutto il percorso la bellezza la devi conquistare la devi scoprire non è già data in partenza ora se noi guardiamo anche tutte le tante cose scritte sull'educazione alla lettura in effetti un messaggio potente che arriva è mai forzare la lettura perché altrimenti rendi in visa una roba brutta se io però guardo cosa mi dice il neuroscienziato il neuroscienziato mi dice fai attenzione perché se fra gli 11 e 15 anni tutta una serie di cose non le fai il tuo cervello è un muscolo vuol dire che in quella palestra non ci entra vuol dire che quella muscolatura non la scruttura e quello che accade tra i 15 e i 20 anni è un processo che si chiama pruning neuronale cioè potta via tutti i neuroni che non sono stati attivati come dire quella muscolatura non mi serve quella la depotenziamo e ci teniamo invece quella che viene potenziata quindi la conclusione in casa mia come padre è stata che noi gli abbiamo detto un libro al mese che poi è diventato un libro ogni due mesi e sarebbe stato meraviglioso che lui scegliesse i fratelli Karamazov andava in biblioteca ecco gli abbiamo detto non deve essere Peppa Pig cioè non mi puoi prendere in giro e allora lui andava in biblioteca e prendeva le biografie dei calciatori degli sportivi era leggere però era proprio tenere l'allenamento una delle cose che ha fatto credo fosse in prima superiore è che un giorno va in biblioteca e torna a casa col libro Open del tennista Agassi che è un libro che lui ha scritto col premio Pulitzer è lo stesso che adesso ha scritto la biografia del premio un tomone di 500 pagine scritto benissimo benissimo cioè non era un libro come la biografia di Maradona era un'altra roba e lui ci è entrato e in tre giorni è stato proprio divorato dal libro ha detto un libro bellissimo ecco dentro di me mi sono detto questo è quello che io volevo che permanesse cioè io sapevo che era un grande lettore sapevo che bisognava tenere allenata quella roba lì dopodiché da grande farà quello che vorrà ma in questo momento dove leggere è un prerequisito per produrre pensiero pensante io anche se ti fa fatica te lo faccio fare è uscito un bellissimo tra l'altro anche sul leggere da computer e leggere su carta e c'è un volume di Barron pubblicato da Cortina proprio tutto dedicato agli stili di lettura dove viene riportato anche la comparazione tra quanto il nostro cervello ritiene cioè apprende nella lettura su carta nella lettura su schermo e nella lettura attraverso ascolto di audiobook ve li ho dati perfettamente in sequenza perché il massimo dell'apprendimento avviene con la lettura su carta poi il secondo livello è la lettura su schermo poi il terzo livello è la lettura in audio e mi sento anche di dire che questo per esempio è un tema enorme perché noi diciamo facciamo la scuola col tablet senza libro ma se tu togli l'oggetto qua la Montessori ci dice che tu devi davvero toccarlo il mondo per poi poterlo mettere dentro alla mente non puoi semplicemente guardarlo posso aggiungere aggiungo soltanto una cosa perché mi ha stimolato quest'ultima parte c'è un concetto che è nel fondo di tutto il discorso che ha fatto Alberto che è il processo di negoziazione cioè il genitore non fa altro che negoziare ed è questo un processo importante anche da imparare perché non è così semplice negoziare allora magari se mi dici due parole su questo allora il tiro alla fune deve essere la posizione del genitore in pre-adolescenza non giocano più in squadra con noi ti dicono io gioco era bellissimo giocare in famiglia anche con i bambini perché io sto in squadra con te mamma io sto in squadra con te papà arriva la pre-adolescenza io ti sfido ti sfido e quindi quella è la cosa e il secondo aspetto è proprio questo la negoziazione vuol dire che c'è una zona in cui noi contrattiamo la tua zona di autonomia che non può essere un pacchetto tutto o niente ma è un pacchetto che ha una messa alla prova la gestisci la mantieni bene quindi andiamo a livello successivo e quindi questo è il ruolo dell'adulto va negoziato e il figlio col suo cervello tsunamico proprio da età dello tsunami vuole tutto e il rischio del genitore è dirgli come risposta avrai niente perché questa progressione deve essere cioè il genitore gli piacerebbe mantenere il figlio nel copione dell'obbedienza invece siccome in pre-adolescenza entra nel copione dell'autonomia bisogna fare un bel po' di appunto negoziazioni la fragilità che vedo in noi genitori oggi è questa che ai figli ci sono un bel po' di cose che piacciono e che spesso sono di tipo dopaminergico quindi ce le chiedono perché tutti ce l'hanno perché mi piacciono perché se non ce l'ho sarò un grandissimo sfigato tutta quella collezione di robe che vi sentite dire e a noi il tema dell'adulto è questo che non tutto quello che piace ai nostri figli gli fa bene e non tutto quello che non gli piace dobbiamo toglierlo dalla loro vita vedi l'esempio del libro che ho fatto prima questa roba qua è il ruolo dell'adulto se io dovessi darti solo tutto quello che ti piace i nostri figli mangerebbero cotolette patatine pizza e sarebbero super obesi con una carenza di nutrienti e di vitamine quindi se chiedi a un figlio cosa vuoi mangiare oggi tesoro sarà difficile che ti dice carote e zucchine se lo porti al mcdonald perché ordini il menù insalata stai facendo un autogol educativo è meglio che non lo porti lì se oggi è il giorno dell'insalata di rimando se voi guardate queste sono tutte operazioni computazionali presenti nel cervello del genitore che rimane cabina di regia finché genitore dentro un progetto educativo dove i sì e i no devono aiutare a crescere non sono date né i sì per compiacerti né i no per mortificarti o perché io sono sadico ma appoggiano sempre su un principio che il genitore conosce molto bene che il figlio non è sempre tenuto a conoscere quando gli diciamo un'ora di videogiochi punto ecco quello io gli posso anche spiegare tutto il ciclo della dopamina ma si annoierebbe ok questa è come carote e zucchine cioè non c'è molto da discutere su alcune cose poi io ti posso domani dire ma il tuo videogioco dell'ora vuoi che ne compriamo uno nuovo ecco quella dentro all'ora potrebbe essere che dopo un mese che ti sei sperimentato su questi esattamente come che libro vuoi leggere che leggo le biografie non è il libro che gli avrei scelto io quindi quello è lo spazio dove poi decide lui come resta il dato di fatto che appunto la negoziazione è una cosa che i figli con noi fanno benissimo ma è come se il tiro alla fune trovasse sempre il figlio vincitore se l'adulto non ha una percezione forte del fatto che l'adulto nella vita di un figlio è lui salve buongiorno dunque avrei diverse cose parto dalla prima io sono cresciuta senza televisione probabilmente ho discusso qualche volta con i miei genitori tuttavia oggi li ringrazio nel senso che probabilmente ho guadagnato tanta personalità e tante letture in più questa era la prima considerazione la seconda riguarda il mio ruolo di insegnante io insegno in un istituto tecnico professionale ho firmato insieme ad altri colleghi poco tempo fa un manifesto il cui titolo è insegnare controvento che lei dottore ha sottoscritto e la ringrazio e il senso di quel manifesto è quello di innescare una riflessione come insegnanti proprio sul registro elettronico insieme proprio anche al grande tema della digitalizzazione della scuola se ci sono insegnanti quindi invito a leggerlo si trova online e come genitore io credo che sia il tempo anche del coraggio e nel senso che serve si riflettere serve capire da che parte stiamo e poi serve agire io per esempio l'anno prossimo avrò mia figlia che andrà in prima media qui a Casalecchio sono andata quest'anno dal dirigente per comunicargli che la mia linea educativa sul telefono è quella di posticipare il più possibile il possesso del telefono per mia figlia quindi gli ho chiesto già adesso se ci sono insegnanti che intendono utilizzare il telefono in classe con finalità didattica i vari caute e quant'altro perché se così fosse io li denuncio cioè io non accetto questa cosa perché ci sono oramai ampissimi studi che dimostrano tutto quello che lei oggi ci ha raccontato così bene e quindi come genitore io non accetto questa cosa e questo ecco era la mia linea sarà la mia linea come insegnante io ho scoperto la gravità di quello che stanno vivendo gli adolescenti alcuni anni fa quando in una classe un ragazzo ha tentato il suicidio a scuola io ero in classe perché gli è stato tolto il telefono cellulare sono stata io a tirarlo giù dalla balaustra e c'è stato l'intervento chiaramente della neuropsichiatria dell'ambulanza era in crisi c'è stata una crisi di ansia di angoscia gravissima per farlo scendere vi lascio immaginare quanto sia stato ecco difficile lui stava giocando a un videogioco l'insegnante in compresenza gli ha tolto il telefono dalle mani sottostimando la potenza di quel gesto e lui ha azzerato il punteggio in quel momento un punteggio che aveva accumulato in mesi migliaia di ore di gioco in quel momento lì il suo avatar il suo personaggio è morto e questo ragazzino era un ragazzino fragile nella misura in cui era appena arrivato in Italia non parlava ancora l'italiano il suo modo per comunicare con i compagni era il gioco era questo pub G che tra l'altro poi io ho scoperto essere vietato in altri paesi allora in quel momento io come come persona ma come insegnante mi sono resa conto parlando con appunto gli specialisti della neuropsichiatria del maggiore di che cosa di della della dimensione enorme di questo fenomeno che assolutamente non conoscevo ecco quindi è verissimo questo è un ambiente e quando si pensa di riuscire a gestirlo bisogna anche secondo me misurare quali sono i nostri strumenti le nostre forze perché nel caso della famiglia di questo ragazzino per esempio non c'erano gli strumenti cioè non c'erano proprio gli strumenti per capire successivamente concludo abbiamo scoperto che tutta la classe era coinvolta in una dinamica ludopatica gravissima dove c'era chi aveva rubato soldi ad altri per comprare il giubbotto antiproiettile che mi dava punteggio mi faceva passare il livello cioè è molto molto complesso tutto questo buongiorno io chiedevo magari alla scuola un po' più di praticità per me non esiste solo la connessione e neanche solo i libri ci vuole anche qualcosa in mezzo che magari aiuta i bambini anche essere più creativi e cercare anche una dimensione diversa la mia infanzia ho avuto fallegnamerie a scuola ma lo facevano i ragazzi e le ragazze oppure il corso di cucina ognuno faceva un gruppo e ognuno era responsabile di fare da mangiare questo ragazzi e ragazzi insieme e questo è un po' quello che serve secondo me anche i ragazzi di avere qualcosa di diverso perché andare a scuola con uno zaino che pesa molto più di loro non è sempre aiutarli e non è che li stimola sempre o dover leggere 500 pagine o 200 pagine serve anche secondo me qualcosa in mezzo buongiorno io mi reganzo alla maestra in prima fila o alla professoressa mi scusi perché non ho capito se è maestra professore insegnante praticamente io ho avuto l'esperienza avevo un bimbo che ha nove anni in terza elementare come parlava l'insegnante ha iniziato a giocare a Stumble Guys che è uno dei tanti giochi dei micro giochi che esistono nel mondo del Play Store di Google che è vario pinto la mia esperienza che volevo chiedere conferma a lei è che diversi suoi compagni di mio figlio ha iniziato a giocare a questo gioco che è un gioco a ricompensa quindi si gioca e si guadagna il cappellino verde si gioca e si guadagna che ne so è un pupazzetto questo che gira in vari mondi il gioco dura un minuto due minuti ed è sempre a ricompensa quindi non riuscivamo a staccarlo io da vecchio videogiocatore soprattutto di cabinet quindi il gioco che si metteva il coin dentro e finiva lì mi iniziavo a accorgermi di questa dipendenza e l'ho associato subito al fattore della ricompensa ricompensa immediata e quando abbiamo deciso di staccarlo c'è stata una crisi che noi abbiamo reputato come crisi di astinenza c'è stata proprio una crisi di astinenza che è durata due ore verso di mio figlio e come diceva lei si è come resettato e dopo non l'ha più chiesto noi gli abbiamo proprio detto gli abbiamo fatto finire la partita non gliel'abbiamo staccato sotto perché abbiamo visto che era troppo preso gli abbiamo fatto finire la partita il suo tempo che sporava sempre di più dopo gliel'abbiamo staccato e gli abbiamo detto da oggi basta l'abbiamo piantata lì e lui era in crisi A perché il suo personaggio non sarebbe più cresciuto e B perché tutti i suoi compagni giocavano molti non tutti diversi 4, 5, 6 giocavano e quindi il suo personaggio non sarebbe più cresciuto però dopo questa crisi qua questo reset reset totale non ha mai più giocato a quel gioco lì e mai più giocato a un gioco simile ci siamo accorti come diceva lei che ha ripreso altre attività però quello era diventato un po' il suo scopo di vita questa cosa è durata e cresciuta sempre di più è proprio una droga a tutti gli effetti io lo dico io sono un informatico e mi interessa molto al mondo dell'informatica non sono un professore non sono lavorato in informatica però mi sono sempre appassionato di questa cosa qua e mi sono accorto subito di questa cosa e parlando neanche ai genitori della classe alcuni mi hanno anche preso in giro però io li ho messi molto sull'attentità cioè io vorrei che anche la scuola prendesse più più attenzione di questo fenomeno perché ci sono questi micro giochi che si iniziano a giocare elementari che sono pericolosi cioè io lo dico sono proprio pericolosi io lo dicevo e molti mi dicevano di no però tutti hanno smesso di giocare dopo che ha smesso di giocare mio figlio non so se è stato un caso no? non so se questo non ho studiato neuroscienza però questa cosa della dipendenza l'ho vista c'è stata proprio chiara è stata come se avesse assunto una droga che noi gliel'avessimo tolta sotto volevo solo sentire se poteva essere stata una congettura visto che ho lei qua di fronte che è un esperto mi sembra proprio che la narrazione che ci ha fatto e io la vedo lei ha fatto un intervento clinico direi nel senso avendolo fatto bene precocemente da genitore che è base sicura credo che abbia davvero interrotto un aspetto che è quello con cui si cerca cerca davvero il mondo dei videogiochi un po' di modellare il funzionamento mentale dell'utente poi di quel genere di prodotto non c'è c'è una bella correlazione tra entrare nel mondo in quel genere di mondo così dopaminergico e l'emergenza ludopatia che sentivo adesso anche anche tu vuoi approfondire sì no volevo soltanto dire una cosa sulle ludopatie e in modo particolare quello che è il rapporto appunto col mondo della scuola perché sul nostro territorio da diversi anni stiamo lavorando proprio in un'ottica appunto di prevenzione delle ludopatie a partire dalle scuole primarie di tutte le scuole del nostro territorio non soltanto in termini di percorsi formativi rivolte agli insegnanti ma proprio di attività laboratoriale proprio di esperienze pratiche e concrete dirette con gruppi di alunni quindi dei nostri bambini dei nostri adolescenti attraverso strumenti educativi importantissimi quale può essere appunto il teatro oppure l'animazione comunque attività laboratoriali che portano appunto a ragionare grazie anche da questa esperienza che lei ha raccontato che può essere utile appunto per prendere sempre più coscienza un po' di quello che è qual è la pericolosità dell'uso appunto dei videogiochi la ludopertia è legata molto anche all'uso dei giochi online a pagamento e quindi il giocare con i soldi c'è un business enorme su questo e quindi anche su quello naturalmente stiamo lavorando proprio per aiutare sempre di più ripeto già dall'infanzia a creare appunto i presupposti di un lavoro di prevenzione sono stati fatti anche degli accordi per esempio anche con le banche proprio per vedere se si poteva limitare appunto anche l'uso di carte di credito caricabile anche eccetera per cui ci sono tutta una serie di processi su cui anche a livello regionale si sta intervenendo e ripeto sul nostro territorio il rapporto con le scuole è fondamentale proprio per riuscire insieme chi non so che parlava prima di alleanza appunto alleanza educativa proprio anche su questi temi lascio spazio all'ultima domanda e dopo facciamo le conclusioni grazie buongiorno innanzitutto vorrei ringraziarla perché il semplice fatto che lei sia qui e anche tutte le cose che lei ci ha detto nel mio piccolo cioè nel nostro piccolo anche come genitori ci rende un pochettino più più forti perché ci rendiamo conto che di tutte le cose che lei ci sta dicendo non sono soltanto delle problematiche comuni a pochi noi genitori ma anche le cose che i consigli che lei ci ha dato da portare avanti qualcosa riusciamo a portarla avanti e quindi quel tantino ci sentiamo un po' meglio oggi un po' genitore un tantino più bravini noi come tanti altri che amici che abbiamo qui vicino che insomma affrontiamo anche tra di noi queste problematiche però le volevo chiedere un parere nel senso è ben chiaro che ci siano delle limitazioni come lei ha detto non si può utilizzare l'auto se non si ha una certa età non si possono fare certe cose se non si raggiunge una certa età una certa competenza allora mi chiedo perché a livello governativo o perché le istituzioni stesse non riescono non sono riuscite in tutti questi anni a legiferare con leggi con dei decreti con delle normative sul fatto che certi strumenti che non sono strumenti ma sono ambienti certi anche la stessa la semplice sim la sim card per acquistare un contratto telefonico non possano essere possano essere negati fino ad una certa età che siano i 14 che siano i 16 che siano i 18 anni di recente mi viene da pensare ci sono state anche ad esempio negli Stati Uniti d'America TikTok per un certo breve periodo di tempo è stato vietato perché sembrava essere una questione di sicurezza nazionale anche da noi in Italia chat GBT oppure intelligenza artificiale per un certo breve periodo di tempo è stato vietato perché non c'è questa consapevolezza secondo lei chiaramente lei non mi può dare una risposta è solo un parere però mi piacerebbe saperlo a livello istituzionale perché perché questo non accade è chiaro che non devono essere le istituzioni a darci le risposte e ad avviarci l'autostrada per le soluzioni all'interno della nostra famiglia perché siamo noi genitori i primi a trovare le soluzioni ai problemi che abbiamo ognuno di noi dentro il nostro nucleo familiare però perché questo cambiamento che deve partire chiaramente da noi dal basso poi a un livello più alto non è percepito grazie allora credo che ci siano un milione di risposte possibili molte delle quali io non posso essere incaricato come esperto perché non ho una professionalità giuridica non non mi muovo bene nel mondo della politica eccetera credo che le cose siano queste la prima è che noi avremmo bisogno di una global policy cioè di una regolamentazione a livello globale che significa che tutti si mettono d'accordo su qualche cosa su cui al momento credo sia impossibile mettersi d'accordo perché gli interessi economici in gioco sono così elevati noi non dobbiamo trascurare che il 30% il 60% della ricchezza mondiale in mano a 30 persone la quasi totalità dei quali hanno gestiscono il mondo online il mondo dei videogiochi apparentemente di fisico e materiale non produce niente noi non vediamo mica quasi niente i libri li vediamo i film devono mettere in piedi i cinema e tutto il resto i videogiochi non è che c'è in tutte le città il mondo dove vai paghi un biglietto e incline eppure è l'azienda il secondo aspetto credo che l'unica via sia quella di farlo diventare un problema di sanità pubblica cioè raccogliere così tanta evidenza come è stato fatto per il tabacco non dimentichiamoci che il tabacco è stato definito un problema poi pericoloso per la salute a metà degli anni 80 a fronte di milioni di milioni di morti quindi e perché ci vuole così tanto tempo perché nella comunità scientifica a fronte di chi segue una via di ricerca magari davvero un po' nella logica di vediamo cosa fa bene cosa fa male c'è poi tutto un lavoro finanziato a tesi cioè io se vado a vedere tanti studi che dicono i videogiochi fanno benissimo è perché hanno preso un micro particolare del funzionamento della mente hanno detto adesso ti faccio vedere come viene potenziato da quel videogioco che quindi è un fattore di miglioramento di ecco però nel frattempo non stai misurando mentre videogiocava tutto quello che uno ha perso per guadagnare quel pezzettino lì e questo sarà sempre uno studio che parla a favore di quindi come per il tabacco esistevano tantissimi studi ultrascientifici che concludevano non si può dire che il tabacco fa male alla salute in questo momento il dibattito è aperto e voi sentirete molti esperti che vi daranno un'altra visione poi penso che quando avremo io sono proprio convinto che non si può andare avanti così cioè scusate solo perché la stessa domanda se prendiamo la pornografia perché poi noi chiamiamo pornografia ma poi nell'esperienza dei genitori sono scene di stupro che scoprono nei video negli smartphone scene di pedopornografia le peggio perversioni possibili immagini coprofilia necrofilia parole che magari alcuni di noi neanche sanno cosa vogliono dire sono i tag dei video che si scambiano ai dodicenni dico ma è chiaro che quella è una roba criminale data in mano a un dodicenne noi dovremmo avere tutto un sistema internazionale che dice non è possibile che i dodicenni di tutto il mondo con tre clic possano avere quella roba lì non ci riusciamo perché c'è un enorme enorme interesse economico e in questo momento credo l'ultimo aspetto che la politica viene molto giocata in termini di interessi proprio dentro l'online c'è una sorta di collusione se tu vuoi essere eletto presidente della repubblica degli stati uniti è come se devi andare nei social altrimenti non ti votano più legato a questo discorso e poi chiudiamo c'è anche un'attenzione a quello che sono i programmi di sanità pubblica anche qui sull'educazione all'affettività e alla sessualità che spesso come dire anche su questo c'è molta confusione ma tantissima perché pensano al genere al gender tutte queste stupidaggine non sono stupidaggine però comunque in qualche modo veramente è molto complicata anche su questo quindi però l'educazione all'affettività per esempio che viene fatta dalle aziende sanitarie locali e nel nostro territorio vengono fatte anche con molta attenzione vengono fatte dei programmi di educazione all'affettività all'interno delle scuole per esempio che è utilissimo molto importante oppure anche uno spazio di ascolto rivolto alle adolescenti proprio sempre dell'azienda sanitaria che si chiama spazio giovani ci possono andare i ragazzi dai 14 anni in su però è importante svilupparli anche questi servizi proprio per supportare i nostri adolescenti ma supportare i genitori quindi anche l'educazione alla sessualità e all'affettività sono importantissime perché sono legate un po' a questo discorso che si sta facendo già acceso allora anch'io chiudo un po' come siamo partiti ringrazio anch'io il dottor Perlai perché davvero oggi è stata una mattinata dove credo nessuno di noi abbia acceso lo smartphone per vedere banalmente l'orario perché chi non porta più l'orologio utilizza come diceva lei anche lo smartphone per altre cose credo io sono il mio ruolo è politico quindi faccio parte di una giunta rappresento sono stata eletta e rappresento un partito credo che quello che uno dei genitori abbia portato in questa sede come discussione meriti riflessioni non credo che sarà semplice arrivare in tempi brevi per tutto quello che è stato già detto ha delle soluzioni credo che oggi abbiamo voi intanto abitati in un territorio dove come diceva anche l'ottore Modio noi facciamo tantissima opera di prevenzione in termini di progettualità di servizi di esperienze e tutti noi sia genitori che docenti che vedo in quest'aula oggi abbiamo avuto degli elementi davvero per avere più consapevolezza di come rapportarsi ai nostri figli non è semplice c'era l'insegnante la professoressa che raccontava quello che ha dovuto affrontare in una classe di adolescenti e quindi le difficoltà che la società purtroppo ci rappresenta e ci porta poi a trovare delle soluzioni chiudere non è chiudere quindi questa è diciamo lo dicevi bene tu Simone all'inizio sarà una delle tante diciamo occasioni dove parlare dei nostri ragazzi e anche di noi e dei genitori io davvero ringrazio l'associazione dei genitori perché se stamattina abbiamo avuto questa possibilità è stata grazie al loro impegno che è costante e continuo non è una svolinata che faccio perché io con la mia delega mi interfaccio sempre con loro per molti aspetti quindi davvero grazie e la rete dei genitori insieme all'istituzione è fondamentale per dare risposte per avere diciamo idee insieme per andare avanti e costruire un futuro migliore come ho detto all'inizio e qui chiudo dei nostri ragazzi grazie anzitutto grazie a tutti per essere intervenuti per noi come vi dicevo all'inizio è stato un evento importantissimo è stato il primo cogliamo l'occasione per ringraziare anche altre persone magari che non si vedono come magari il tecnico la casa della conoscenza che ci ha dato gli spazi ci teniamo a ringraziare moltissimo Giulia perché è stata Giulia comunque che ha avuto l'idea iniziale di questo di questo evento e con tanta forza ha voluto portarlo avanti ringraziamo nuovamente tutti volevamo anche ricordarvi che noi da quest'anno abbiamo uno spazio alla casa della solidarietà quindi finalmente noi tutte e tre associazioni genitori siamo riusciti a costruire anche delle cose anche perché abbiamo realmente uno spazio in cui ci possiamo confrontare a volte digitalmente però a volte anche fisicamente esatto in presenza quindi finalmente sappiamo dove andare e di questo dobbiamo ringraziare l'amministrazione se siamo qui quindi ci siamo siamo tutti all'interno di tutti i tre istituti se avete bisogno di contattarci avete la nostra mail di info che in questo caso è la nostra del centro ma poi possiamo tranquillamente divulgare tutto quindi l'idea nostra è di lavorare insieme ai genitori quindi le varie esigenze che possono sorgere i vari spunti noi siamo qui anche per cercare di portare avanti e capire le esigenze dei genitori tutti insieme e di fare un buon lavoro quindi grazie ancora tanto per aver partecipato grazie a tutti grazie 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 grazie